salve e ben trovati le borse continentali riaprono all'insegna dell'equilibrio in una giornata comunque povera di dati macroeconomici di spicco come spesso accade anche oggi l'attesa è per il meeting della bce il quale è in programma per giovedì con un occhio però anche oltreoceano sia per quanto riguarda le parole future di powell che per l'esito delle primarie sempre appunto negli stati uniti il fuzzini in positivo non si è mosso quasi mai andando ad escluderlo vedete questi queste piccole escursioni nella tarda mattinata ma va considerato che anche se qui a lato vedete appunto delle variazioni delle escursioni si tratta di proporzioni piuttosto relative basti pensare che i minimi giornata intorno alle ore 16 poco dopo superano in realtà di poco lo 0 e 30 per cento circa dunque tutto il restante andamento è stato ancora più moderato questo discorso vale anche per francoforte cambia sì qualcosa a livello grafico ma si tratta di dettagli anche qui infatti non c'è mai stato un vero allontanamento della parità così come anche la variazione finale che vedete nella tabellina qui a fianco è abbastanza neutra a wall street nasdaq e dow jones viaggiano di pari passo con un leggero ribasso che porta il tecnologico rispettivamente in area 16.200 e il dow jones appunto sui 39.000 a milano continua la buona intonazione di saipem che oggi è miglior titolo del fuzzimib intorno a più 4 e 90 per cento più 486 seguono con una buona intonazione due bancari quali banco bpm e monte dei paschi entrambi appaiati con la stessa percentuale con un più 1 e 76 del comparto risparmio azimut supera il punto e mezzo percentuale così come supera il punto e mezzo un titolo del comparto sanitario quale di assorina più 1 e 58 note dolenti invece per ferrari il titolo di marranello infatti si avvicina al meno 3 dopo il declassamento da parte di city group con raccomandazioni sell next in attesa delle trimestrali registra un meno 2 e 80 per cento vendite anche su farmaceutici e utilities i più colpiti nello specifico sono amplifon meno 1 e 24 ed era meno 0 e 87 così come stm dopo un avvio sopra quota finisce per chiudere in area 43 e 80 scivolando in territorio negativo con un trend ribassista e terminando a meno 0 e 85 sotto comunque ai 43 euro per azione sul forex scusate l'unico cross negativo tra quelli che riguardano la moneta unica è l'euro sterlina che rispetto a venerdì arretra comunque non di moltissimo leggero progresso per l'euro dollaro che si riporta in area 1 0 8 e 60 è invece più ampio il rialzo del cross euro yen in quasi continua risalita dalla mattinata europea era l'ultima nota di quest'oggi non mi resta che ringraziarvi per la visione e rinnovarvi l'appuntamento domani un saluto e un arrivederci ciao